Ciao a tutti e benvenuti su Fabio Silver News. Io sono Fabio Silver e oggi abbiamo una notizia davvero interessante da discutere. Parleremo dei rumors sul possibile divorzio tra Chiara Ferragni e Fedez, una delle coppie più seguite in Italia. Ma prima di entrare nei dettagli, vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un like e condividere i vostri pensieri nei commenti qui sotto. Il vostro supporto è fondamentale per continuare a portarvi notizie e aggiornamenti di qualità. Ora passiamo alla notizia. Chiara Ferragni e Fedez, rumors di divorzio e la richiesta di alimenti. Nel panorama dei social media italiani una notizia sta riscuotendo particolare attenzione. Chiara Ferragni, nota influencer e imprenditrice, avrebbe intrapreso le procedure per il divorzio dal marito Fedez, rapper e personaggio televisivo di spicco. Secondo le indiscrezioni diffuse da Fabrizio Corona attraverso il suo sito Dillinger News, Ferragni avrebbe avanzato una richiesta di mantenimento mensile di 40.000 euro. Questa cifra, se confermata, rifletterebbe non solo l'alto tenore di vita condiviso dalla coppia, ma anche l'importanza di garantire stabilità economica ai figli nati dal matrimonio. Al momento, tuttavia, si tratta di voci non ufficialmente confermate dai diretti interessati. La situazione è fluida e soggetta a cambiamenti, con i fan e i follower che attendono con ansia ulteriori sviluppi. In attesa di conferme o smentite, il dibattito sui social si infiamma. Molti si interrogano sul futuro professionale e personale di due tra i più seguiti influencer italiani, mentre altri esprimono preoccupazione per le implicazioni familiari e per i bambini coinvolti. In questo contesto è essenziale ricordare l'importanza della privacy e del rispetto per le decisioni personali, soprattutto in momenti delicati come una separazione. La vicenda, indipendentemente dal suo esito, sottolinea la crescente influenza dei social media sulla vita privata delle celebrità e il loro impatto sul pubblico. Nota, le informazioni riportate in questo articolo si basano su voci e non sono state verificate. Pertanto è consigliabile attendere dichiarazioni ufficiali prima di trarre conclusioni definitive. E questo è tutto per oggi riguardo ai rumors sul divorzio tra Chiara Ferragni e Fedez. Ricordiamoci di rispettare la privacy della coppia e di attendere conferme ufficiali prima di trarre conclusioni. Se il video vi è piaciuto non dimenticate di iscrivervi al canale, lasciare un like e scrivere i vostri commenti qui sotto. Grazie per aver guardato e ci vediamo presto con altri aggiornamenti su Fabio Silver News. Fabio Silver News Il tuo compagno di giornata Dal mattino alla sera Una voce appassionata Stranezze e notizie Un mix sorprendente Ogni figa Un'avventura Sempre coinvolgente Tranezze e notizie E Grazie a tutti